Se il titolo di Roseto si allontana, viste le perplessità mostrate dalla società abruzzese nei confronti delle condizioni legate all'offerta dei biancoverdi, la Scandone prova a battere strade alternative per la 2. Per il posto degli Sharks, nessun accordo è stato già chiuso con la Stella Azzurra. Nei prossimi giorni la società abruzzese affronterà un tavolo istituzionale per provare a trovare un supporto per continuare e in contemporanea vaglierà tutte le offerte che giungeranno. Non è detto che fra queste non possa rispuntare anche quella della pallacca di Stravellino. La Scandone, incassata i dubbi di Roseto, si concentra anche sulle situazioni di altre squadre e tiene presente la pista che porta al ripescaggio. Agrigento sta provando a delineare il proprio futuro e i biancoverdi avrebbero bussato alla porta dei siciliani per capire la situazione e provare magari uno scambio di titoli. Da capire se le stesse perplessità sollevate da Roseto potrebbero essere un ostacolo anche su eventuali nuovi tavoli delle trattative. E c'è da capire alla fine quale destino attenderà Agrigento, se riuscirà a conservare il proprio posto in seconda serie, se opterà per un semplice riposizionamento o se aprirà alla possibilità di vendita del titolo. Ma il panorama in A2 è ancora incerto. Altre squadre che devono ancora delineare il proprio futuro sono Rieti e Imola, con la società romagnola che nei prossimi giorni sarà impegnata in almeno due incontri per provare a sbloccare la situazione e capire il da farsi. La strada che porta al ripescaggio invece dovrà passare per la volontà o meno della LNP di creare un ranking. Al momento infatti farebbero fede le posizioni in classifica della stagione conclusasi anticipatamente, con più di una squadra che avrebbe fatto un pensiero a salti in A2. Fra queste di sicuro Cento, che sarebbe pronta a iscriversi alla corsa per il ripescaggio forte del secondo posto nel Gironi C di serie B. Per la Scandone, con questi criteri, la strada si farebbe tortuosa.